Voglio farti vista domanda, sei innamorato? Certo, assolutamente E come hai capito di esso? Sono andato a convivere dopo due mesi e non era mai successo Cioè, sì, assolutamente Sono innamorato Da tante cose lo capisco Dal fatto che ogni volta che minchia sfaso in casa me ne voglio andare ma poi non me ne vado mai Dal fatto che probabilmente do la possibilità alla persona con cui sto di Mettere la bocca anche più del dovuto Anche perché poi il 9 su 10 su tante cose ha ragione, ti garantisco Una mattina mi alzo, prestissimo perché dovevo cambiare le gomme alla macchina Mi arriva una chiamata da FaceTime da questo mio amico, un tramite che mi ha aiutato a fare appunto la collabo Che mi fa, se stai guidando fermati, mi fa no? Mi passa French, no? E la cosa che fa ridere è che il tipo mi fa Oh grande, piacere di conoscerti, ho sentito il pezzo, bellissimo Sono in studio da Kanye, sto finendo la strofa di Donda, poi faccio la tua Allora io da accordi gli avevo fatto una struttura di beat di 12 barre La mattina mi arriva audio su Whatsapp Minchia apro e praticamente c'è un taglio brutto nel beat Perché il tipo ne ha fatte 4 in più, capito? Così, che sei preso bene?